Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Farm Simulator 2015 Oggi sono qui per presentarvi altre due mod per gli amanti dei cervisti Vi presento un, diciamo, due John Deere 6R Abbiamo il 6.210, 6.170 6.210, vedete, c'è sconto dal piston Quindi dopo vi farò vedere Allora, devo dire che sono fatti molto bene Stampo di base, diciamo, sono uguali Però, a differenza dal 2.10 e dal 170 La differenza principale che si può vedere sono le ruote dietro Che il 2.10 ce le ha un po' più larghe Mentre il 170 ce le ha un po' più strettine Questa è la differenza principale di base Poi ho provato a guardare il cofano, roba strane Ma in fine di stampo sono sempre quelli Perché comunque la serie è quella Appunto, devo dire che hanno entrambi il sollevatore Adesso io l'ho attaccato a questo Ma può benissimo comparire anche su quest'altro Solo che la differenza dei due è che uno ha una zavorra fissa Mentre l'altro ha il sollevatore frontale E che ciò, diciamo, va bene Se dovete zavorarlo Così potete dare il peso ulteriore Questo qua, ovviamente, potete zavorarlo fin là E quindi, insomma, avranno usi diversi Prendiamo il 2.10 Come vedete già entro solco Entrambi Interni abbiamo di animazione Oltre al volante che gira sempre poco Non so perché Una buona console a fianco Tasti ben definiti Per il resto non abbiamo altre animazioni Abbiamo l'IC sulle due porte E sul portellone dietro Tutto il cionoghino visto Quindi non ce ne sono Specchietti sono attivabili Col tasto L Eccolo qua Vedete, li dice attivate Li attivate Però c'è un problemino Vedete che sembra ci sia una pellicola Che attiva lo specchietto E si vede che è messo un po' male Io più che altro avrei magari modificato L'inclinazione degli specchietti E dopo avrei appiccicato esattamente La pellicola visiva Per farci capire In modo da non avere quel taglio lì Quello scanso Poi abbiamo la possibilità di Raddoppiare le ruote Che però Come vedete non segnano per terra Quindi insomma Sono un po' Solo un po' visive Così Perché Non è che ci sia Chissà quali segni Ovviamente col tasto NM Controllate anche Appunto Il coso Vedete la benna E quindi Si Ci sarebbe un po' Un conflitto Di tasti Che Sarebbero da cambiare Ecco Quindi Anche qui Una cosittina Misera da aggiustare Come fare Devo dire che Comunque ci siamo Non sono il top Del top Però vedete Fanno questo cerchio luminoso Poi Con un pad 5 E un pad 6 Ci sono gli altri Che questi qua Sono già più belli Vedete Hanno Questi fasci di luce Insomma Già meglio Eccolo qua E Poi abbiamo col tasto R I due indicatori A fianco Col tasto Space Dove abbiamo l'IC Poi basta Mi sembra C'è un pochettino Di roba Ora ho Tasto 6 Ah si Vabbè La possibilità Appunto Di Avanti Col tasto 6 Praticamente Mettete Togliete I ganci Per la Per il sollevatore Per il caricatore frontale Scusate Come vedete Ci compaiono Un po' così In compenso Ci hanno fatto I tre bulloni E tre staff In teoria Dove dovrebbero Andarsi ad agganciare Come si vede Non hanno Una grafica Un po' diversa Rispetto a quello Che è il complesso Del trattore Però comunque È fatto bene Come vedete Anche davanti I ganci Gli attacchi Per il Gli attacchi Per l'olio Per i tubi Dell'olio E E quant'altro Come vedete Il sollevatore davanti È sempre richiuso Non ho trovato Come Diciamo Aprirlo Però se voi andate Ad agganciare qualcosa Su davanti Prende Si aggancia Senza problemi Non ho notato Altri problemi Sollevatori E robe varie Anche perché avevo provato Ad attaccare Anche l'aratro Come potete vedere Per fare delle prove E Eccolo qua Il 170 Come vedete Hanno inserito Anche la meccanica Di gioco Del 2013 Perché appunto Come avete visto In partenza Così in salita Un po' slitta E Certo volte Tende anche un po' Ad impennare Comunque sono uguali Sempre Doppie ruote Se per metter il tasto 6 Compare Vedete Gli attacchi Per il sollevatore E Davanti Questo sollevatore Con il caricatore E Lampeggianti funzionano Fari Sono uguali Cioè Di fondo Ragazzi I due trattori Non hanno che di differenza Però Diciamo Come ruote Almeno quelle Le hanno variate La lattura Comunque si comporta bene Abbiamo un aumento Di base Diciamo Dei giri Come potete sentire Vedete che aumentano un po' Va avanti bene 16 orari Quindi Siamo lì Siamo giusti Nient'altro Insomma Vabbè Entro il solco Ce l'ha anche questo Il sollevatore Come vedete Funziona E Sempre IC Sempre varie cose Sempre volante Che gira poco E quant'altro Volante gira poco Perché dall'esterno Vedete Ha una movimentazione Però Dall'interno Dovrebbe averne Un'altra E invece Mantengono sempre La stessa Mentre sui trattori Originali Eccolo qua Dall'esterno Vedete La movimentazione È poca Ma dall'interno Vedete che È tanta Ecco Ancora Nelle mode Non ho Visto ancora Questo Però spero Di vederlo Che imparino Diciamo Che si sistemi E quant'altro Vabbè ragazzi Direi che anche Per questo Test mode È tutto Beh Giun dir Guardate L'unica cosa Da sistemare Subito Sarebbero un po' Gli Guardate Le ruote davanti Sarebbero un po' Gli specchietti Il fatto Che Restano un po' Così così E Niente Per il resto Funziona tutto bene Anche il sollevatore E il caricatore Davanti Funziona bene Perciò Non ho notato Altri grossi Problemi Da sistemare Ci siamo quasi Magari Solo gli specchietti Sarebbe L'unica pecca Anche Lo scarico Il fumo Visto esce bene Quando accelerate Aumenta Diciamo Abbastanza Si nota Molto Ovviamente I trattori Sigurano Sempre indietro Non so perché E vabbè Direi che anche per questo Test mode è tutto Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel like E ciao a tutti Alla prossima Ciao ciao